Sì, siamo stati molto bravi nell'approccio perché dare il vantaggio 2-0 non è mai facile. Dopo ci siamo un po' rilassati, ci siamo un po' complicati la vita, però siamo riusciti a fare il 3-2 della grande squadra perché non è da tutti prendere due mazzate e poi reagire. Il secondo tempo abbiamo sofferto, però da squadra vera abbiamo ottenuto i tre punti che erano quelli che volevamo. Il commissario si è molto arrabbiato in alcuni momenti della partita, nell'intervallo che ti ha detto? Sì, esiste la ragione perché quando sei in vantaggio 2-0 non puoi soprattutto in un minuto prenderti un gol. dobbiamo migliorare da noi attaccanti perché non è un discorso di difesa, è un discorso di tutta la squadra quindi insomma il mister si è un po' arrabbiato, però giustamente perché se buttavamo via dei punti qua ci dispiaceva perché quando vai in vantaggio devi chiudere la partita.